La mostra dell'autarchia a Torino onorata da una visita di sua altezza reale il principe di Piemonte. La consegna del duce ai torinesi per il prossimo decennio, gli italiani devono vivere intensamente la mistica dell'autarchia, abbraccia i settori cereali, orto, floro, frutticolo, viti, vinicolo, zootecnica e pesca, tessili, legno, metallurgia, meccanica, costruzioni edili, carta, acqua, gas, elettricità, vetro e ceramica, chimica, abbigliamento, produttrici di servizi che saranno potenziati secondo il suo comandamento, come fa Fede questa interessantissima mostra. Grazie Grazie